Sup sol amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo con la Zoriac Challenge! Ragazzi ragazzi, allora, 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 qui mi ho fatto cambiare casa, per questo lei è qua fuori, perché sotto l'acqua è mutande, ma in realtà dobbiamo andarcene immediatamente, perché lei è in travaglio, io sì, stavo sistemando le cose, come potete vedere la casa l'ho rifatta, più piccola, molto più piccola, qui c'è la camera, insomma è molto più piccolina, per il semplice fatto che mi sembrava, cioè non voglio tenermi i soldi che ha portato lei, erano troppi, quindi stavo pensando di togliere via via, grazie alla donazione di beneficenza, di togliermi i soldi, oppure toglierli direttamente adesso e farlo con voi, quindi money, 85.000, questa casa ne vale 35.000, avevamo 119.000, vabbè mettiamo, non so quanto togliere in realtà, è questo il problema, però direi che possiamo restare con 3.000 simoleon, dai, sì, perché troppi soldi, poi oppure che a noi pure, partorisci all'ospedale, non partecipiamo, li mandiamo all'ospedale, vai, andate a partorirmi i bimbi, allora, eccolo qua, un maschietto, allora, intanto McLean, non Gomari, nome, Mattias, e la femmina McLean, nome Mary Bell, andata, oh, i nostri bimbi sono qua, guardateli che belli, che belli, che belli, che belli, li porto su nella loro cameretta, sperando che non ci sia nessun problema, no, dove era prima andava bene, così, perfetto, e l'altro cucciolo, dov'è l'altro cucciolo d'uomo, eccolo qua, ok, e anche il piccolino è su, quindi genitori, direi che per prima cosa me li venite ad allattare, cambiali anche il pannolino sporco, lui perché mi risulta ancora all'ospedale, nutri con il biberon e coccolalo, eccolo qua, ancora in mutande, lui è andato in ospedale in mutande, vabbè ragazzi, ognuno il suo, la logica dei sim sappiamo tutti quanto è forte e potente, ok, eccoli qua, sono inventati genitori, chiedo scusa perché effettivamente sono entrata in registrazione in maniera un po' brusca, ma non mi aspettavo che le partorisse, quindi mi ha preso molto la sprovvista, ha dovuto muovermi e non ho potuto fare tutta la parte in cui lei gli dice, cioè più che altro l'avevo fatta in realtà, ma me l'ho soppersa, praticamente quello che è successo è che lei aveva un negozio che è andato male, era piena di debiti e praticamente ha perso tutto, è fallito, però ha dovuto pagare tutti i suoi creditori, per questo adesso hanno solo 3000 simoleon, intanto lei ha raggiunto il bellone di genitorialità, bene, cullalo, va vediamo se dorme, coccolalo ancora e dondolalo, lui comunque si sta impegnando per essere un buon padre, ci tiene, lei, guarda, lei dovrà buttare giù un po' di quella pancetta da parto, ci sta ragazzi, ci sta, lei proverà a parlare con lui però, perché comunque tra loro le cose non stanno andando granché bene, perché lei ancora col lavoro fa un po' ricchi da mercanti, anche se sta acceduto almeno all'apparenza, ma ancora non si è messa a cercare, per carità, lui non insiste nemmeno più di tanto, perché alla fine, in fin dei conti, ha appena partorito, quindi, per carità, c'è, bambini piccoli, ci può anche stare, guarda, se tu hai fame, ma che ora sono 4,29, no, allora per cortesia vai a dormire, lui però, secondo me, l'avrà a noia, perché troverà tutti questi panni a giro, e lui non li sopporta, perché comunque, io lui lo vedo un tipo ordinato, anche se non ce l'ha tra i tratti, beh, lasciate dormire bambini, mettiamo le luci automatiche, però, tutte le luci, ok, e lui, bravo, raccoglie tutti i cumuli, e lui un po' l'hanno, perché comunque lui domattina deve andare anche a lavorare, non è che, eh, sono anche fuori, questi li avevi lasciati tu, tesoro, tu non abbaiare, fai una ramanzina sulle sveglie, fai una ramanzina sugli abbai, poi lo accarezzi e te ne vai a dormire pure tu, perché sennò domani, ragazzo, non ce la fai, dormi anche te, ti ha svegliato il cane, mi rendo conto, ragazzi, ci vediamo domani mattina, allora direi che oggi possiamo lavorare da casa, vediamo, dobbiamo fare dibattito di destra o sinistra e raccontare una barzelletta sui politici, ah, niente di più semplice, appena si sveglia anche lei lo facciamo pure con lei, ah, ragazzi, giusto per rendervi partecipi, il raduno del club l'ho fatto fuori registrazione, comunque tanto lo possiamo anche rifare, non è un problema, dobbiamo anche portare avanti l'aspirazione, per cui dovremmo rifarlo per forza, ecco, eccolo, ecco l'ansia, una femminuccia, amore, ciao stellina, sono cresciuti anche loro, vedete che be', già non ve l'avevo fatti vedere, sono cresciuti, ecco, vi sto mostrando un bel WC invece del cane, eccolo qui, Jax, è bellissimo, lo adoro, sì, sono senza reshade, quindi se vedete tra l'altro le immagini più, un po' diverse, un po' più spente per questo, allora, si è svegliato il bambino, lui lo sente piangere, si sveglierà lui a questo punto e andrà a lui da bambi, dai piccoli, che viene a cambiare il pannolino sporco ad entrambi, eh, inizia la fase dura dell'essere genitori, mio caro Zack, non è facile, posso immaginare perché non ho figli, non lo so, però posso immaginare, senti che coro, che concerto, ok, facciamo che fai una faccia buffa, fai dei versetti, dondola, e lo uguale, fa una faccia buffa, coccola e parla, lei anzi, ma guardatelo che patuffolo, ho raggiunto il livello 2 di genitorialità, molto bene, bene, oh, siamo anche diventati amici di Mattias, di nostro figlio, chissà come sono da grande, sono veramente curiosa di vederli, allora, lei ancora sta dormendo, santo cielo, sì, Everett, eh, allora, facciamo anche una cosa fatta bene, cioè social media, post happy quotes, metterà una, qualcosa per dire che sono nati i suoi bambini, i suoi cuccioli, i suoi piccolini, hai anche fame, bene, andiamo anche a mangiare adesso, ma ragazzi, è successo qualcosa, lui ultimamente, infatti, quando avrà fatto qui, telefono, inbox, altre scelte, no, send the view, no, talk about day, sì, ragazzi, questa cosa è successa fuori registrazione, l'avevo chiusa il gioco, perché volevo farlo con voi, ma in realtà, quando poi sono rientrata in game, lui non era più là, e lei nemmeno, quindi vi racconto che cosa è successo, chi è questa Giuliana Davenport? Praticamente l'altro giorno l'ha chiamato Supraia e gli ha proposto di conoscere una ragazza, Supraia, in strada della situazione, non è che sia proprio conoscenza della situazione sentimentale di di Zack, che tra l'altro non sa nemmeno come faccia lui a conoscere Supraia, però vabbè, e lui, incuriosito, ha accettato di conoscere questa persona, questa persona è Giuliana Davenport, infatti è per questo che c'è più flirt rispetto alla barra dell'amicizia, e lui non ha fatto assolutamente niente, però un po' di flirt innocente quello sì, e lui secondo me adesso le manderà un messaggio, perché è contento dei piccoli, però è stressato, cioè è già stressato, perché di fondo la casa richiede impegno, quindi quando è fatto viene a riempire chiamami Jax e poi mi chiami anche Coco, ok, mi manda il messaggio a lei, lei ancora dorme, e lui secondo me si inizia anche a irritare, perché sono le 10.42, cioè c'è delle cose a fare in casa, c'è soldi da riprendere, lui la viene a svegliare, e ti puoi alzare? Guarda che è tardi, mi sono già occupato io dei bambini, e lei, oddio, secondo me lei, che dice tenta di? Ah, sedurre, lei secondo me gli dà fastidio essere, come dire, svegliata, non mi viene, e quindi potrebbe raffarlare contro, mi pare eccessivo, insulta, trattalo freddamente, dice, ehi, potevi anche evitare di svegliarmi, eh, però, sono stanca, io ho partorito, scusi, leganti, lui, assolutamente no, e lei, ma stai scherzando, disposa di genitorialità, capite se stai partorito, ma io ti sono stata accanto, devo andare al lavoro, cioè, sei impazzita, cioè, bambini, non posso occuparmene solo io, giustamente, e qui si litiga tanto per cambiare, express love for Yasmin, esprime amore per Yasmin, ho messo, ragazzi, una nuova mod sul tradimento, che deve essere molto bellina, però ora lui non esprimerà sicuramente amore per Yasmin, e sai, capite, che facciamo? Mandiamo un sms felice a lei, vediamo se ci propone qualcosa di interessante, mentre lei se ne andrà, aiuto, ce la faccio in bagno, si farà una doccia, e poi verrà a mangiare, prende gli avanzi, va, qui ancora litiga, no? Cioè, ha avuto ragione lei, fatemi capire, hai avuto anche torto marcio, tesoro, non ci posso credere, vabbè, lui scrive di nuovo a lei, gli dice, guarda, quelle cose sono veramente un disastro, non so più cosa fare, hai paura dei suoni, tesoro, dov'è Coco? Volevo fargli una carezza, perché? Gioca con la bacchetta felina, ma perché fa il verso del vampiro? Io non capisco, esatto, lei lo chiama, l'ha chiamato, me l'aspettavo, l'ho fatta apposta, vabbè, sono d'accordo Zachary, è una giornata splendida, usciamo a godercela, e ci aspetta il caffè Magnolia, andiamo, sì, giocheremo dopo con la bacchetta felina, siamo arrivati ragazzi, eccoci qua, questa è Giuliana, ve la voglio mostrare, è davvero molto molto carina, a me piace tantissimo, eccola qua, non so perché non ha le ciglia, io gliel'avevo messe, e questa cosa mi urta i nervi, quindi scusate, sistemo e torno. Allora, eccoci, ce l'ho fatta, l'ho risistemata, a farlo un complimento sincero, cosa desideri fare con lei? Sì, mi chiedevo le quei Yasmin, gli spusano l'oltre i gavettoni, no, vabbè, adesso no, lei è carinissima, è bellissima questa ragazza, e secondo me, a lui piace lei, e potremmo fare, potremmo flirtare un attimo, secondo me il flirt ci sta, è bello vederti, grazie per avermi invitato, ne avevo bisogno, e allora, andiamo a prenderci però qualcosa da bere, o quantomeno, anche perché lui ha fame, quindi sì, ce la farò, eccola qua, allora parliamoci un attimo, racconta una barzelletta, chiede della sua giornata, poi diciamo che per il momento, non vuole tradirla, tradire la sua compagna, però sta andando a prendere, a mangiare, mi sa, guarda vado a prendere il cornetto, torno subito, spero, maguro, ah è tornata, oddio, era proprio, morde fuggi, comunque allora, lui secondo me, potrebbe fare una conversazione profonda, adularla, un attimo, dirle, potrà dire che comunque, con lei si sente molto capito, che, lei, riesce a, comprenderlo, perché deve venire qui a rompere, maroni tu, cioè spiegami, chiediamole se è single, tu puoi andartene, grazie, non ti voglio qui, oh guardate lei, guardate lei, abbasso un po' perché non vorrei fosse troppo alta, spetticola, fallo anche un complimento sincero, poi, lui con lei, secondo me, si, come dire, un pochino si sfuga, imparala a conoscere, ma perché dovete venire a sedere qui al mio tavolo, ma allaggia a voi, quanto io odio, ragazzi ogni tanto, qui ci scappa anche il flirt, secondo me, insieme alle conversazioni profonde, ok, si sono spostati fuori, c'è che è una bella giornata, e c'è che è una bella giornata, lei secondo me, gli proporrà, no, niente, no, niente, ci ho ripensato, chiediamole della carriera, chiediamo se lei, che lavoro fa lei, un'altra disoccupata, bene, sono tutte, hanno tutte voglia di lavorare, esprimi ammirazione, poi flirterei, ancora, politica da volta gabbana, quando è che, ah, quindi me ne devo sempre, dibattere della stessa, boh, vabbè, è romantico, complimentati, anche per l'aspetto, guarda, sei veramente una bellissima, ragazza, cioè, sei interessante, molto particolare, sei veramente bella, cioè, ragazzi, va detto, quando va detto, va detto, scambia numeri di telefono, fingiamo che si sentivano solamente attraverso Instagram o Facebook, Simbook o Face Sim, insomma, quel che è, vediamo se lei accetta, accetti, proviamo ancora una battuta d'abordaggio, ogni volta voglio provare la battuta d'abordaggio, questa se ne va, io non capisco dove se ne va, ora voglio vedere, scusate, cosa va a fare, a parte qui c'è un'affluenza, vuoi ordinare? Prenditi qualcosa, oh che carino, invita a pattinare, Giuliana, andiamo a pattinare insieme, dai Giuliana, non mangiare, lascia stare, no, lo devo andare in bagno, dannazione, è ormai fatto questo, poi ti ci mando, Reggie, c'è anche Jay, che va bello, figurati, a lui non parla il vero, aiuto, non mi vedo messi bene, ragazzi, ecco, Jay è caduto, lei sta per cadere, massa e ripresa, lui per adesso, eccolo, no, bravo Zack, non sei ancora caduto, mi complimento, ecco lei sì, mi aspetto che anche Zack, prima o poi, batta una siderata per terra, dai, dai, oddio, oddio, dai, sembra che stiano andando insieme, bellissimo, oh, plum, ecco appunto, è cascato, ci mancava, d'altronde, non siamo molto bravi, eh, eh no, direi di no, mia cara, non siete molto bravi, andate qui insieme, basta, e lui ha bisogno di andare in bagno, secondo me la ringrazia, abbracciandola, però la stringe, basta fare sta cosa del vampiro, non sei un vampiro, non lo so perché, c'è questo bug lui, grazie per la mattinata, sono stato davvero, per il pomeriggio, sono stato molto bene, mi ha aiutato un attimo a rilassarmi, a distrarmi da tutti i problemi, domanda a Giuliana di diventare la sua amante, però ora non c'è stato nemmeno un bacio, quindi mi sembra un pochino eccessivo, allora, lui deve andare in bagno, se no se la fa addosso, quindi mandiamocelo senza ulteriore indugio, se clicco qui, ci vai da solo o no, figuriamoci, dove è un bagno eccolo qua, vai usalo, ma lei mi sa che è andata via, sì, niente, si sono salutati, quindi lei se n'è andata, lui a questo punto, costretto a tornare a casa, per quanto non ne sia felice, ma deve tornare a casa, lui è rimasto affascinato da questa Giuliana, le pia, eccole qui Giuliana, no no, aspetta, 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 è qui, azione aggiunge il gruppo, però ragazzi voglio che andiate un secondo in un punto appartato, che bello, si andate qua, vai qui insieme, facciamo finta che abbiano fatto una passeggiata insieme, per Magnolia, questa è Magnolia Promet, sì, tra l'altro è bellissimo sto quartiere, mi piace tanto questo, questa ambientazione, è bellino, a volte mi viene in mente che ci potrei fare anche una casa, anche se non ce la metto mai, ok, adesso che sia qui con Giuliana, secondo me lui le propone un piano folle, gli dirà, senti, a me piacerebbe tanto di vederti, non lo so, lo so che sembra folle, io ho due figli, ho una compagna, però tu mi piaci, sei un po' la mia dea, la mia musa, non lo so, sento che ho bisogno di vederti ancora, e lei secondo me accetta, flerta di nuovo, stringila, ma perché non posso baciarla, gli dobbiamo chiedere di essere per caso amanti, non credo, confessiamo l'attrazione, sì, secondo me lui confesserà che è attratto da lei, e dice dai, sì, perché non ce ne andiamo da qualche parte, un giorno, magari potremmo anche andare al mare, non lo so, però, vorrei tanto rivederti, Zack, sì, anch'io mia cara, lui mi sembra molto, ben predisposto, ecco, ma tu sei l'abbordaggio audace, lei è carinissima, no, che faccia hai affatto, le scappa, e lui secondo me la bacia, sì ragazzi, qui la bacia, la sente da un po', ma ora, secondo me non resiste più, la bacia, cede alla tentazione, e io gli devo fare una foto a questo momento, le corna sono spuntate sulla testa di Yasmin, eh sì, lui non è stato molto fedele, non si sta comportando bene, lo sa anche lui, però, Giuliana è una boccata d'aria fresca, in un momento veramente per lui è difficile, è complicato, ok, però io sono curiosa ragazzi, voglio vedere che succede a fare, ask Giuliana to be your lover, chiedere a Giuliana di diventare la mia amante, quindi era, cioè prenderà bene, quindi possiamo continuare la nostra frequentazione, certo, alla luce, non alla luce del sole, però, no mamma, non veniamo con te, ho un rave, che ne pensi? E lei, mi sembra che stia accettando, anche se non si sento l'audio però, ha accettato, che ha fatto? vediamo se c'è qualcosa nei buff, new lover, sì, abbiamo un amante, wow, sometimes it's good to have a relationship, without commitments, qualche volta è bello avere una relazione, senza legami, scambio le battute stuzzicante, primo bacio, nuovo neonato, sì, te il nuovo neonato l'hai festeggiato così, blushing, così, oh, si è arrossato le guance, devo fare una foto, devo fare una foto, questo è un momento catartico, lui, da una parte secondo me si sente in colpa, e potrebbe anche pescare, senti, fa una cosa, scioglie il gruppo, perché ha bisogno di rilassarsi un attimo, oh, livello 4, molto bene, che carine le paperine, non lo chiedete, ho sbagliato, dai, pesca ancora un pochino, e poi devi tornare a casa, perché, dai, facciamo il raduno del club, vai a pesca insieme, peschiamo con tutti, così, abbiamo fatto anche per questa, sennò, in realtà, la seconda, non è, è sempre la stessa settimana, vabbè, vai a pesca insieme a, Jay, perché quale, chi meglio di Jay, però almeno nel frattempo, stiamo andando avanti con l'aspirazione, il che è tutto un dire, oh, è arrivato anche lui, secondo me con lui, è mentore, invita Bob, vai a pesca, vai a pesca con Bob, ok, sta arrivando Jay, perfetto, e facciamo finta che adesso lui, stia anche un po' parlando, no, mi stia raccontando di questa Giuliana, che, non lo sa, sa che sta sbagliando, e Jay me lo vedo, sì, vabbè amico, ma che ti interessa, dai, la vita è una sola, devi godertela, quella, la sua compagna, Yasmin, è veramente odiosa, ma cosa vuoi, abbiamo preso una tilapia, ma che bel pesce, che ha preso lui, ha preso un tonno, pinne gialle, e secondo me, però ragazzi, facciamo finta, che la chiamata, la stia ricevendo, la send a nude foto, sì, ma andiamo la foto nuda, a Giuliana, va bene, dai ce lo vedo, e poi dice, scusate, mi fa morire, va bene, insomma, lui deve andare a casa, assolutamente, se non mi è arrivato un messaggio di, scusate, mi è arrivato un messaggio da, da Yasmin, che sta, chiedendo, dove cavolo, è finito, perché se n'è andato via, comunque, prima di pranzo, sono le 10 e 20, ancora non è a casa, quindi lui saluta tutti, terminiamo il raduno, a proposito, e torna a casa, tutto un po', mi sembra un pochino, ma, un po' sognante, Giuliana gli ha fatto un bel effetto, è una cosa orribile, però, si, gli serviva una, botta di allegria, perché, dopo, tutto quello è successo, gli ultimi, perché ora immagino, si è passato un annetto, più o meno, l'ultimo anno per lui è stato stressante, no, in realtà, cacchio, dio, bambini, sono nati ora, quindi, saranno passati pochi mesi, allora, siamo tornati a casa, lui rientra in casa, lei è qui, che lo sta aspettando, lui è in paura, aspetta, io volevo fare, a porre del temporale, po', piccolo, ecco, lei lo vede, ragazzi, perfido, urla parole proibite a Zachary, usa interazione buffa, così, dice, dove cavolo sei stato, finora, ma ti rendi conto dell'ora che è, dice, dai, ascolta, non avevo bisogno di rilassarmi, non, e lei però, no, secondo me anche lui, qui si arrabbia, cioè, però, magari lui in questo momento, che è stato accusato da lei, si potrebbe sentire anche in colpa, se ci avessi scusati, no, va bene, allora, perfido, lui si arrabbia, appunto, urla contro, tanto, loro litigano di continuo, però lui, siccome si sente in colpa, farà delle scuse eleganti, guarda, senti, scusami, forse effettivamente ho ricevuto male, hai ragione, non mi sono comportato bene, il piccolino qui sta dormendo, senti, occupatene tu, se stai bene, perché lui deve mangiare un attimo, nutri a latta, coccola, fa dei versetti, e tu tesoro, mangiati qualcosa, prende degli avanzi, ok, su, ognuno faccia quello che deve fare, mi è sparito il lavandino, no, non ho parole, cambia il pannolino sporco, nutri a latta, poi viene anche da lei, nutri a latta, no, piccolo mangia, ok, uno, c'è, andiamo dall'altra, la Mary Bell, no, non piangere piccolina, c'è la mamma, lui, ripuliscimi per favore qui, poi, occupato un secondo degli animali, perché, magari spazzola, e, gioca con la bacchetta felina, tu cosa vuoi fare, chiacchierare con Arun, va bene, fare fichi fichi con Yasmin, va bene, lo accontento, lei, scusate le azioni buff, risposerà una lotta ai gavettoni, porta il cane a fare una passeggiata, ora sta venendo giù il mondo, non credo sia il caso, non compriamo nessun tettino, però viene dal cane, magari, che, è qui che si rilassa, però viene qui a carezzalo, e imparalo a conoscere, poi, riempi e chiama, Jax, e tu riempi e chiama Coco, guardatelo, cucciolotta, che carina che è Coco, secondo me è lei però, che approccerà con lui, romantico, secondo me lei adesso gli dirà, che ha deciso di cercarsi il lavoro, perché ci ha riflettuto, effettivamente, si rende conto anche lei, che non ce la fanno ad andare avanti, mazza, è fulmine, gente, avevi ragione, cercherò il lavoro, e lui si senta un po' una merda, e tiene la mano, bravo, e fai romantico, baciala, dice, guarda, io apprezzo il tuo sforzo, mi fa piacere che tu lo dica, perché abbiamo due figli, e fai fichi fichi con gli asini, aspetta, aspetta, aspetta a fare fichi fichi con gli asini, perché qui ragazzi c'ho paura, bevi il contraccettivo, prima, quindi smetti un attimo di parlare con lei, bravo, beviti il contraccettivo, e fai fichi fichi con gli asini, e non ci voglio credere, ma guarda trovo che versi fa, beh, fate fichi fichi, oh, Giuliana non è innamorato, per lui è una, una ventata di aria fresca, ma nient'altro, e dai, fichi ficheggiate, e con questo fichi fichi ragazzi, direi di concludere qui questo episodio, spero che vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciarmi un like, e un commento qua sotto, vi invito anche a iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, spero che questo, questo challenge vi stia piacendo, io adoro giocarla, mi piace tantissimo, noi ci vediamo la prossima volta, con la prossima puntata della Zodiac, sup soul, andiamo a noi, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, Grazie a tutti.